Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. L'Inter potrebbe presto fare un altro colpo di mercato di rilievo, questa volta direttamente dal Portogallo. Giuseppe Marotta, da tempo, sta lavorando sotto traccia per garantire nuove leve di valore per il club. La recente sfida contro il Benfica non è stata soltanto un'occasione per mettere alla prova le capacità della squadra. Ma anche per individuare potenziali talenti su cui puntare per il futuro. Tuttavia, il radar di Marotta non è focalizzato esclusivamente su una singola squadra portoghese. Poiché ha esteso la sua ricerca anche ad altri campi. Con i quali l'Inter è già stata a stretto contatto durante la passata stagione di Champions League. L'obiettivo del club nerazzurro è migliorare ulteriormente un reparto di centrocampo già di per sé brillante. Nomi come Barella e Frattesi hanno garantito prestazioni di alto livello e prospettive promettenti per il futuro. Tuttavia, consapevoli che il tempo non risparmia nessuno e con la necessità di mantenere la competitività, l'Inter sta sondando l'identikit di un potenziale rinforzo. Puntando su Steven Eustaquio, un profilo estremamente interessante, nato nel 1996 e di cittadinanza portoghese, sebbene canadese di nascita, Eustaquio è attualmente sotto contratto con il Porto, vantando oltre 100 presenze da professionista. Dotato di straordinarie capacità di inserimento nel centrocampo e di un talento per concludere azioni offensive, sarebbe un'aggiunta preziosa per l'Inter, specialmente considerando la tendenza della squadra a fare gol anche attraverso i centrocampisti. Oltre a ciò, dimostra una notevole visione di gioco, facilitando l'assistenza ai compagni nelle azioni d'attacco. Sebbene mostri alcune lacune difensive, queste possono essere perfezionate tramite un adeguato lavoro tattico. Il suo contratto con il Porto scadrà nel 2027, aprendo la possibilità per l'Inter di presentare un'offerta allettante per assicurarsi i servigi di questo talentuoso giocatore. Si vocifera che l'offerta potrebbe raggiungere i 12 milioni di euro, una cifra che, se accettata dal Porto, potrebbe portare il giovane talento canadese a Milano. Al momento, nonostante la presenza considerevole di centrocampisti nell'organico dell'Inter, con ben sette giocatori nella stessa posizione. La prospettiva di un'eventuale cessione potrebbe rendere ostacchio un'opzione allettante per il club nerazzurro.